Benvenuti al mio consueto appuntamento anche se in ritardo, il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, oggi c'è l'allarme meteo nel Veneto e questo ha comportato dei ritardi nei mezzi pubblici, io adoperando i mezzi pubblici ho fatto ritardo ma puntualmente voglio essere presente all'appuntamento quindicinale che voglio avere con voi sugli argomenti che questa sera tratterò. Prima di tutto vorrei partire dalla recensione di un libro che si trova in libreria, un libro che si chiama Inventare il futuro per un mondo senza lavoro, ebbene questo libro fa parte di una serie di libri che poi trovate facilmente nelle librerie, questi libri parlano ormai di reddito di base, dell'automazione, della fine del lavoro e se voi andassi nelle librerie sono disponibili in bella vista. Questi temi, del reddito di base, dell'automazione, ebbene, qualche anno fa erano lontani dal modo di pensare del maggioritario, oggi invece se ne trovano a decine di questi libri. Ebbene il libro che andrò a parlare è il libro Inventare il futuro per un mondo senza lavoro, è di Nick Smirkek e Alex William. Gli argomenti che trattano questi due autori sono simili ad altri libri che trattano di questi argomenti, tipo il post capitalismo, il post capitalismo di Paul Mason. Potete trovare le recensioni di questi libri che io vi ho detto a questo link che post capitalismo che ho inviato adesso e la regia metterà su Facebook così anche voi potete andare a leggervi tranquillamente le le recensioni di questi libri. E un altro libro che si chiama Il futuro senza lavoro, accelerazione tecnologica e macchine intelligente di Martin Ford. Ecco ho dato il link per la recensione. E ultimo libro che vi do da recensire, che è stato recensito e che potete leggerlo con una visione e la recensione particolare, è la nuova rivoluzione delle macchine di Andreu McAfee. Diciamo subito immediatamente che nessuno di questi autori pur raccogliendo una marea di dati che dimostrano la fine dell'attuale modo di produzione, questi autori non riescono a scorgere un futuro oltre questo sistema. tutti si immaginano invece lo stesso sistema, lo stesso modo del valore, del profitto eccetera, semplicemente leggermente un po' modificato. Ma nella prima parte di questo libro, Inventare il futuro per un mondo senza lavoro, da parte iniziale di questo saggio, gli autori affermano che i partiti sono diventati simili a imprese e i politici ridotti al ruolo di commercianti venditori di una merce tra le altre. vengono poi messi sotto accusa i miti del nostro tempo, quali la democrazia diretta, la piccola produzione e l'autogestione delle aziende come in Argentina. La stessa critica viene rivolta alla finanza etica, abbiamo la banca etica, noi eccetera, alle piccole banche e a certa sinistra che rimane agganciata al passato e assume atteggiamenti primitivisti rifiutando la tecnologia o dando vita, ad esempio come nei Stati Uniti, a movimenti survivalisti. Che cosa sono questi movimenti survivalisti? È un movimento di persone o di gruppi che si preparano attivamente per le emergenze futuro o eventuali, comprese le possibili interruzioni o profondi mutamenti dell'ordine sociale o politico su scale che vanno dal locale a quella internazionale. I survivalisti hanno spesso una formazione che riguarda le emergenze mediche, l'autodifesa, l'approvvigionamento di scorti alimentari e acqua, l'autosufficienza logistica tramite la costruzione di strutture per sopravvivere o nascondersi, ad esempio un rifugio sotterraneo e la preparazione di equipaggiamenti da sopravvivenza. Le loro origini sono date dalla guerra fredda, dal scoppio dell'emergenza, della scoppio di bomba atomica eccetera. Quindi una di queste critiche che danno gli autori del libro che inventare il futuro per un mondo senza lavoro critica anche questi survivalisti. Gli autori quindi invitano a guardare al futuro invece che al passato, a partire, dicono loro, dalla libertà. Se il capitalismo ha messo al centro quella del singolo nei confronti dello Stato, pensiero liberale, al contrario ora c'è bisogno della libertà sintetica che contrapone alla necessità. Gli autori continuano dicendo che il tempo libero dei disoccupati non è veramente tale il tempo libero, ma viene schiacciato dalla necessità che si dovrebbe invece avere la possibilità di sviluppare realmente le potenzialità umane. E' chiaro il motivo, se sei il tempo libero dei disoccupati non è veramente libertà, no? Perché non puoi esprimerti, non puoi esprimerti verbalmente ma puoi esprimerti come persona perché sei compresso dalla necessità di dover lavorare, non hai soldi, non hai niente per poter esprimerti come persona. E allora cosa propongono loro? Un reddito di base per tutti, senza l'obbligo di prestazioni lavorative in cambio. Il processo di automazione e liberazione dal lavoro andrebbe quindi accelerato attraverso le lotte per alzare i salari a livello globale. Gli autori del libro auspicano il superamento del lavoro salariato, ormai reso vecchio, obsoleto dalla capacità di calcolo dei computer, che ha raggiunto ben altri livelli rispetto al tempo dei cibernetici, il tentativo dei cileni o sovietici negli anni 50 e 60. Ma il percorso che loro tracciano per arrivare a questa liberazione dal lavoro è, come dicevo prima, di tipo idealista, gradolista, riformista. Cioè non si esce dal concetto della legge del valore e da questa società basata sulla produzione massiva dei prodotti e non sulla produzione in equilibrio tra i bisogni umani e la natura. Il capitalismo viene confuso con il neoliberalismo. Ciò porta all'impianto per le politiche keynesiane, le sentiamo ultimamente dire, queste politiche keynesiane degli anni 70. Da allora, sempre secondo gli autori, si sarebbe fatta strada a una sorta di internazionalizzazione liberista, di cui avrebbero fatto parte i Chicago Boys e altri economisti che controllano i mezzi di comunicazione. Quindi sarebbero riusciti a imporre una certa visione. Chi sono i Chicago Boys? Per favore non confondetevi con un gruppo musicale, rock, punk o rap. I Chicago Boys è una corrente di pensiero dei giovani economisti cileni, formatisi presso l'università di Chicago intorno agli anni 70, sotto legge di Milton Friedman, chi si intende di economisti e uno dei più grandi. Gli economisti della scuola di Chicago hanno una preferenza di fondo molto marcata per il libero mercato, ma non escludono, ecco il miscuglio, in determinate situazioni la legittimità e l'opportunità dell'intervento dello Stato nell'economia. I maggiori esponenti della scuola dei Chicago Boys, non confondetevi, lo ripeto, con un gruppo rock, sono i premi Nobel Milton Friedman e George Stingler. Il loro passiero fa da ponte tra la scuola neoclassica e la scuola austriaca. Neoliberisti, essi, quindi arriviamo al nocciolo, tanto per capire, questi Chicago Boys, influenzarono le politiche economiche dei governi statunitensi del presidente Reagan e del governo inglese del primo ministro Margaret Thatcher. Insomma, non è il mondo, secondo loro, perché queste persone che fanno parte di questo gruppo dei Chicago Boys, si è impadronito della comunicazione per dare una certa visione della società, quindi secondo loro non è il mondo che fa cambiare le idee, cioè non è l'ambiente esterno, gli eventi materiali che ti fanno cambiare le idee, ma queste che gradualmente lo cambiano, cioè le idee che cambiano il mondo, un po' la prassi rovesciata di chi è materialista. Con tali presupposti non si può che finire ad auspicare la costruzione di una forza populista ed egemonica. Un movimento in pratica interclassista che unisce salariati e piccoloborghesi e che sostituisca la lotta di classe con la lotta del popolo. Infine, i due autori criticano il movimento occupivo e stretto, definito movimento localistico che non ha saputo avanzare rivendicazioni esplicite né darsi un'organizzazione gerarchica. Bene, anche questi due punti sono due punti di questa società, la gerarchia, chi comanda, chi è il capo e che rivendicazioni fate. E chi è il vostro capo? Un esempio sul libro che ho letto su Occupy Wall Street, quando gli dicevano a questo movimento, chiedevano ma chi è il vostro capo, uno di cui fu intervistato vide passare un cagnolino e dice ecco quello lì è il nostro capo, lo facciamo capo. No, perché c'è sempre questo bisogno del capo, perché la struttura gerarchica del sistema produzione capitalistico è piramidale, il capo che è un dio che ha i superpoteri e gli altri che devono eseguire. Insomma, inventare il futuro non riesce proprio a staccarsi dal paradigma dominante, né a descrivere i lineamenti di una società diversa da quella capitalistica. Individua i temi centrali della nostra epoca, quindi con i loro studi e i loro dati, dà, li vede bene questi problemi che sono la liberazione del lavoro salvagliato, la necessità di un salario universale, di sopravvivenza, eccetera, eccetera. Ma lo fa non con gli occhi rivolti al futuro, non con una società diversa, ma con gli occhi rivolti al passato, cioè che ci sia gerarchia, che ci sia salario, che ci sia qualcuno che vada a vendere la propria forza lavoro. Però fortunatamente le macchine sono il risultato materiale di una rivoluzione e non di una ideologia. Libereranno il lavoro queste macchine e aboliranno la legge del valore. Per esempio, casomai una volta ne parleremo. Perché questo? Perché se voi andate... E quindi qua si riferiscono un po' alla corrente di pensiero di una compagine che fa parte del governo attuale. Perché se noi andiamo a leggere sul blog di Beppe Grillo un articolo che parla al reddito di cittadinanza, l'articolo è del 10 febbraio di quest'anno, Grillo sostiene che non dovremo parlare di lavoro. Si tratta di capire che il concetto di lavoro è, e più in generale, il concetto sociale di vita è cambiato. Andiamo verso un'epoca in cui il salariato non avrà più ragione d'essere. Un articolo intitolato Società senza lavoro, sempre Grillo, questo articolo del 14 marzo di quest'anno, afferma che ogni cittadino deve avere un reddito per diritto di nascita e che dalla società fondata sul lavoro bisogna passare a una fondata su alti presupposti. tanti bei proclami, ma la prova dei fatti e la sua natura, la sua creatura, il Movimento 5 Stelle, si sta dimostrando uguale a tutti gli altri partiti. Ogni giorno che passa il reddito di cittadinanza diventa sempre più esclusivo e selettivo, cioè escludono le persone e selezionano, danno solo a determinate settori, si parla che abbiano bisogno, gli possano essere dato questo reddito. sempre più condizionato all'obbligo al lavoro, quindi si contraddice con quello che lui dice. Il Movimento 5 Stelle è stato disintegrato appena entrato in contatto con il mondo parlamentare, bruciato dall'incalzare dei fatti materiali che corrono molto più veloci dei politici. Non è un caso che Grillo si sia defilato e abbia lasciato la patata bollente in mano a una squadra, scusatemi se lo dico, di giovani inesperti e senza teoria in balia delle situazioni. Ma se non c'è una rottura totale con la società presente e con le sue caratteristiche, non si fa altro che rafforzare il capitalismo. Occupy Wall Street, ecco un occhio di visione nel futuro, ha rappresentato un passo in avanti rispetto a tutti i movimenti nati negli ultimi anni. Quindi questo rifiutava la logica rivendicativa e ponendosi come movimento altro rispetto alla politica tradizionale e i suoi riti. Su questo volevo leggervi una cosa illuminante di Amadeo Bordiga, scritto sull'avanguardia del primo giugno del 1913. L'articolo, che lo potete leggere completamente su questo link che vi indico, dice di ambiente. Cioè l'ambiente, cosa ci vuole? Bordiga mette in chiaro l'importanza di un ambiente radicalmente anticapitalistica. La formazione in questa società di oasi rivoluzionari destinati un giorno ad invaderla tutta. Se è vero che non si possono costruire volontariamente isole di comunismo, è altresì vero che una community come quella di Occupy ha realizzato un umbrione, una controsocietà, un media center, se vogliamo dire, una biblioteca, una piazza dedicata alla distribuzione di cibo con impasti preparati grazie alla sottoscrizione dei simpatizzanti. Dopo il passaggio dell'uragano Sandy si era messo in moto un organismo di mutuo soccorso, Occupy Sandy si chiamava, che aveva più o meno le caratteristiche di Occupy Wall Street, che ha contribuito praticamente agli aiuti sul classando l'intervento dello Stato, se andate a leggervi. Nelle macerie del capitalismo nasceranno comunità di questo tipo, molto più estese e ramificate. Che cosa vuol dire? Si fanno le cose, non serve che ci sia qualcuno che ci dice cosa fare. Se c'è bisogno, come Occupy Sandy, di dare una mano, di dare un aiuto a quelli colpiti dall'uragano, sono pronti, non c'è bisogno che ci sia lo Stato che arrivi con la sua struttura ben organizzata, ben fatta e ci dice cosa fare. No, le comunità hanno, sanno cosa serve alla comunità, sanno come agire. Ecco, è questo che deve venire fuori. Senza leader, non è un'anarchia di per sé, ma è la dimostrazione che non c'è bisogno del capo, ma quando si sa cosa fare, non c'è bisogno di qualcuno che ti dica cosa dover fare. Ecco, questa è la recensione di questo libro che ho avuto la possibilità di sentirlo, i commenti. Gli altri avete il link, se avete voglia, io spero di sì, di andare a leggerli, la recensione su un'ottica di sinistra. Cambiamo argomento, il secondo, sarò veloce, perché il tempo ormai scarseggia, e nessuno ne parla di questo, della prossima catastrofe, del prossimo crisi, il crack che verrà del sistema capitalistico, avremo una crisi. E chi ne parla se non i giornali borghesi? The Economist dell'11 ottobre di quest'anno, che potete andare a leggerlo, dedica un articolo a questo. A dieci anni della crisi del 2018, del 2008, scrive il settimanale inglese, il mondo si sta avvicinando a un nuovo crack. E presto dovrà fronteggiare una nuova recessione globale, in cui le banche centrali, visto che il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli citato, non ha avuto il successo sperato, dovrebbero cominciare a depositare denari direttamente sui conti correnti dei cittadini, dice l'articolo. Il concetto è quello lanciato anni fa da Milton Friedman, quello dei Chicago Boys, e viene chiamato helicopter money. Non sorridete di queste proposte, pensateci bene e riflettete, gli economisti borghesi vogliono salvare questo tipo di società, diverso di noi che lo vogliamo affossare. Ma sentite cosa loro propongono. Gli studi borghesi sulla crisi arrivano alla conclusione che l'ossessione per l'austerità in una situazione di tassi negativi è una follia e che, data la scarsità della domanda, bisogna rilanciare i consumi con un people qui è quantitative easing alla gente. Questo helicopter money non è da confondere con una specie di quantitative easing delle persone o un reddito di base. Nella sezione più immediata helicopter money sta a indicare un'operazione del tipo. Attenzione! La banca centrale distribuisce soldi a pioggia, cioè come un elicottero butta i soldi. Imprese e consumatori li spendono, l'eleconomia riparte, un po' come dice anche il governo attuale. Però noi facciamo la differenza tra il calcolo ragionistico che fanno i borghesi, basato sui prezzi, il PIL, e il reale andamento della produzione industriale. Ora, posto a 100 il livello della produzione industriale raggiunto nel 2008, cioè prima del crack economico, l'unico paese europeo che ha aumentato la produzione industriale negli ultimi dieci anni è la Germania, che ha più uno, cioè un 101, mentre l'Italia, Spagna e Francia si aggirano intorno ai 75-80%, quindi c'è un differenziale per raggiungere la produzione del 2008, dai 25 ai 20% in meno si produce che del 2008. Tutti indici di un capitalismo potenzialmente già morto. Ecco spiegato il bisogno di distribuire i soldi alla gente con gli elicotteri. Se l'ultima crisi è stata superata con l'iniezione di liquidità alle banche, adesso gli economisti si trovano spiazzati senza ulteriori munizioni da poter spendere. Cosa diciamo queste persone? Ucciso il mostro di primo livello, il sistema ne trova davanti uno più grande. Il capitalismo riesce a risolvere le proprie crisi solo spostandole nel futuro, pur di salvare se stesso, è costretto a negarsi sempre più. Ad un certo punto il gioco non è più possibile e allora si aprirà un'epoca di rivoluzioni. Allora a fronte di una produzione minore, a fronte dell'aumento dei disoccupati, ma perché il problema è la distribuzione, non la produzione. Ma la produzione è una produzione privata, una produzione che conosce solo persone che possono comprare. le uniche persone che hanno soldi. Bene, se noi andiamo a leggere l'ultimo dato dell'Ansa del 26 ottobre 2018, dove dice che il 39,1 di pensionati pari quasi a 6,3 milioni, ha un reddito da pensione sotto i 1.000 euro al mese. Quindi è chiaro che questi non possono spendere. Allora ecco l'idea di distribuire con l'elicottero i denari in modo tale, le monete in modo tale che la gente spenda e faccia circolare le merci. Ultima cosa che segnalatemi da un amico, vi chiedo di segnalarmi queste cose interessanti e belle, e che non sapevo, se avete 10 minuti, vi do due link da poter guardare. Sono due link che parlano di città fantasma in Cina. Cosa sono queste città fantasma in Cina? Bene, sono proprio città, mega città fatte dai cinesi, ma non solo in Cina, ma fatte dai cinesi anche nei paesi africani, che sono completamente vuote, disabitate. In Cina perché? In Cina viene calcolato il PIL attraverso la produzione del mattone. Addirittura c'è una città di circa 6.000 km dalla capitale. e rispecchia, riproduce una Parigi per ricchi. Non mi ricordo più bene, mi sembra, è una città di 600.000 abitanti, cioè che è poi progettata per 600.000 abitanti, ma non è una sola, ce ne sono tante, dove è completamente deserto, dove è vuota. E questa è la dimostrazione del capitalismo speculativo, dove si buttano i soldi in queste operazioni, sia politiche, sia economiche. E la gente, il popolo, non adopero questo termine popolo, perché il popolo è un crogiolo di ricchi e poveri. Quindi il popolo italiano non è fatto tutti da una stessa categoria. Il popolo è fatto da succhioni e chi produce ricchezza e da chi succhia da questa ricchezza prodotta da qualcun altro. I poveri non riescono ad accedere a questi appartamenti. Guardatevi lì e sono molto carini. Quindi punti di riflessione anche in questa trasmissione spero di averne dati. Vi ringrazio di avermi ascoltato e auguro a tutti buona serata. Alla prossima, fra 15 giorni. Ciao! Ciao!